buongiorno a tutti oggi 29 dicembre siamo sull'alto piano di asiago e con precisione a malga galmarara dove abbiamo parcheggiato l'auto e vorremmo salire a cima 12 ecco il tempo di percorrenza di questa escursione di tre ore e trenta adesso non so se ce la facciamo perché è un itinerario che di solito è consigliato d'estate ci proviamo perché tanto neve non ce n'è proviamo a vedere dai proviamo andare e poi vedremo lungo il percorso noi partiamo ragazzi vediamo dove arriviamo ciao ciao amici del canale a mezz'ora della partenza arriviamo questo bivio che continuiamo su sentire 8 e 30 e disegna bivio italia fra un'ora e cima 12 ore e 50 dai proseguiamo buongiorno 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 anche a 100 mila stufetta va bene ragazzi adesso proseguiamo e andiamo a cima 12 i can't pretend i've got answers for all of my questions griep is a friend and we talk in my head is this reckless this heart is still beating ecco mi c'è il canale due ore e quaranta e ancora quanto rubi e 40 minuti arrivare alla cima guardate che panorama qui c'è sempre i miei compagni merenda con il telefono e adesso continuiamo e ce la faremo anche stavolta stiamo arrivando alla cima più alta della provincia di Vicenza qui c'è il canale missione compiuta guardate che spettacolo ci abbiamo messo tre ore a partire ciao bello finisci in YouTube tre ore esatte siamo arrivati a cima della vicenda la cima più alta di Vicenza in precedenza avevo già fatto la terza cima più alta di Vicenza che è il cima a Porto questa è la prima volta che la faccio e siamo arrivati anche in questa volta adesso Paninetto Grappino e Sigara non me lo toglie nessuno ciao Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione